Siamo qui con Cammello Messina, presidente della squadra, ci siamo anche noi, con una vittoria, diciamo schiacciante, di su 6 a 3, contro Alessio Caccia Lapinale. Come l'hai vista stavolta? Il risultato è schietto, diciamo così, però è stata una bella partita competitiva. Diciamo di sì, cerchiamo di migliorare di partita a partita e niente. Voi ormai siete il top delle squadre di questo torneo, perché siete ogni anno presenti sia qua che altri tornei, semplicemente di noi, questo invece è il nostro, ma per lo pare anche il vostro. Ci piace giocare al pallone e ci passiamo il tempo. Quest'anno l'anno che siamo tutti muratori, vittori, palettieri, ci tocca anche a noi. Mestieri umili, ma non mi li piedi, perché quest'anno avete anche una squadra decenne molto competitiva. Dovete più aspettare il risultato, diciamo così. No, ma non c'è il risultato, le partite si sa, si può vincere, si può perdere. Puoi perdere anche con una squadra minore a te, ma puoi perdere. Sicuramente, allora, il problema è un bocca al lupo e un buon proseguimento di noi. Credi, grazie. Grazie.